Eder, Mech, Pallister, Mamma, sto male. Come è stato possibile? Arrivato cosciente al CTO di Iglesias, si è seduto su una sedia del reparto pediatrico con le proprie forze, poi è caduto in uno stato di shock. Infine il suo piccolo cuore si è fermato. Il tentativo di rianimazione è andato avanti ad oltranza, protraendosi per oltre un'ora, ma per il dodicenne non c'è stato niente da fare. È stata disposta l'autopsia per stabilire i motivi che hanno portato all'arresto cardiocircolatorio. La famiglia è sotto shock, straziata dal dolore. Tutta la comunità di Sant'Antioco è rimasta attonita e senza parole per la tragedia. Dice lo zio del dodicenne un incubo, Giovanni era forte, non ha mai sofferto patologie e non riusciamo a spiegarci cosa possa essere accaduto. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale. Edelmetallica Edelmetallica Edelmetallica